Il Tg regionale per sordi, bandiere viola a ogni angolo della città e un unico motto che si propaga in tutte le piazze e i bar, Forza Viola. Dopo nove lunghi anni di attesa, oggi la Fiorentina torna a giocarsi una finale di Coppa Italia per una di quelle serate che farà fermare completamente Firenze. Alle 21, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo all'Olimpico di Roma per sfidare la blasonata Inter con il sogno di riportare un trofeo sulle rive dell'Arno. L'eccitazione è altissima, come dimostra anche la massiccia presenza di Maxi Schermi in città. Dove si raduneranno quelli che preferiscono la compagnia alla TV di casa, che invece sarà sintonizzata sul canale 5. Saranno almeno 25 mila i sostenitori in un Olimpico praticamente esaurito, in partenza alla volta di Roma, per riempire la curva sud divisi tra 100 pullman organizzati, auto, treni, una grande marea viola che tingerà la capitale. E sulla partita della Fiorentina commenta anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che sarà a Roma all'Olimpico. Siamo tutti super emozionati, ha detto una giornata di attesa trepidante, non stiamo nella pelle e aspettiamo di trovarci tutti all'Olimpico per sostenere la squadra. Cerchiamo la rivincita di quella brutta finale di Coppa Italia del 2014 e facciamo un grandissimo in bocca al lupo a questi ragazzi che hanno fatto una galoppata in questi ultimi mesi. Ora la politica ai ballottaggi del prossimo 28 e 29 maggio in Toscana non faremo alcun apparentamento con asdre liste o coalizioni che hanno avuto accesso al secondo turno. Si legge in una nota questo orientamento condiviso da tutto il partito della rifondazione comunista in Toscana. Una trentina di studenti del collettivo d'Ateneo dell'Università di Firenze ha occupato questa mattina la struttura ATER di Viale Morganni dell'azienda regionale per il diritto allo studio per protestare contro il caro affitti delle città universitarie toscane e la carenza di alloggi negli studentati regionali. Gli studenti del collettivo chiedono la riapertura al più presto degli studentati in ristrutturazione, la ricerca di soluzioni alternative e la costruzione di più alloggi pubblici. L'occupazione durerà fino a domani anche l'obiettivo di essere un momento di confronto tra studenti che in città come Firenze, Pisa e Siena devono affrontare una situazione secondo il collettivo allucinante del mercato immobiliare. Per un alloggio privato non si trovano camere sotto i 400 euro più spese, mentre gli studentati privati propongono cifre intorno ai 1000 euro al mese. Andiamo alla cronaca. Due uomini di 43 e 44 anni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Firenze con l'accusa di essere responsabili di due rapine avvenute tra dicembre 2021 e gennaio 2022 tra Firenze e la provincia di Siena. Entrambi sono originari e residenti a Napoli e sono stati arrestati uno a Napoli e uno nel Pratese. In entrambe le rapine gli autori avrebbero agito muovendosi in sella ad una moto. La squadra mobile della questura di Pistoia su disposizione della locale procura ha arrestato due cittadini georgiani di 24 e 27 anni, presunti autori di furti seriali in appartamenti commessi in Toscana ed Emilia-Romagna. Il 24enne senza fissa dimora, irregolare in Italia, è già noto alle forze dell'ordine, destinatario da decreto di espulsione, è stato arrestato in provincia di Pisa. Durante la perquisizione, nell'alloggio in cui dimorava, ospite di una connazionale, trovati e sequestrati Grimaldelli, le cosiddette chiavi bulgare e altri arnesi da scasso, ma anche orologi e gioielli. Il 27enne, anch'esso noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Salerno. Entrambi fanno parte di una banda, composta da altri due connazionali, questi ultimi arrestati a Firenze nel marzo scorso, sempre per furti in abitazione. L'Assemblea dei lavoratori di opera esprime profonda preoccupazione a seguito della lettura del bando di gara europea, a procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali in favore dei musei, delle amministrazioni di galleria degli uffizi, Direzione regionale Musei della Toscana, Opificio delle Pietre Dure, perché la gara non offre adeguate garanzie ai lavoratori. Si legge in una nota firmata dall'Assemblea dei lavoratori di opera e da Filcams CGL Firenze. Opera è l'attuale concessionario dei servizi museali agli uffizi. Da anni i lavoratori svolgono un lavoro fondamentale nella gestione e organizzazione dei flussi turistici. I comuni di Bagno a Ripoli e San Vincenzo entrano nel novero dei destinatari delle risorse regionali per la riqualificazione del patrimonio sottratto alle mafie. È stata infatti approvata, su proposta dell'assessore alle infrastrutture digitali, rapporti con enti locali e sicurezza Stefano Ciuoffo, una delibera che accoglie i due nuovi comuni. Si tratta di comuni beneficiari dei contributi messi a disposizione dalla Regione per il recupero e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da restituire alle comunità locali con finalità sociali e istituzionali. Un'allerta gialla per temporali forti a rischio idrogeologico su tutta la Toscana escluso l'arcipelago scatta dalle 12 alle 22 di domani. È stata emessa dalla Sala della Protezione Civile Regionale. Previsti rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti, sulle zone interne cento-meridionali, possibili colpi di vento e attenzione alle grandinate. Nell'Alto Mugello prosegue il rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani. Ma vediamo ancora nei dettagli le previsioni del tempo per domani in Toscana. Poco nuvoloso durante la notte, nella prima mattinata con foschie sulle zone più a ovest associate a isolati rovesci. Nel pomeriggio nuvolosità con possibili temporali sparsi. I venti sono deboli, i mari calmi o poco mossi dal pomeriggio, le temperature minime stazionarie e massime in calo, soprattutto nelle zone più interne. È tutto per questa sera, arrivederci.